Rieccoci, allora sorridevo perché era un po' che non ci vedevamo e mi fa piacere rivederlo qui in questi studi Giuseppe Mansolillo, buonasera. Buonasera. Fincisl Monzebrianza ancora? Milano. Milano adesso? Passato a Milano? Sempre Milano. Ah è sempre stato Milano? Io perché Monzebrianza dicevo? Ho sbagliato. Noi ci siamo occupati insieme, o meglio lei si è occupata come sindacalista e noi di Telenova, io spesso ma anche i miei colleghi come organo di informazione ci siamo occupati del caso Paderno, l'abbiamo chiamato a un certo punto così perché effettivamente è un'area in cui insistono tante imprese, tante aziende e tante di queste aziende hanno subito la crisi in maniera feroce. Il primo caso che mi ricordo ci ha portati a Paderno è stato quello della Lares, io volevo chiedere a Mansolillo di farmi capire a che punto siamo perché io ricordo un'azienda che ormai era non solo sull'orlo ma era fallita sostanzialmente. Sì, no, è fallita, i lavoratori sono con gli ammortizzatori sociali da tre anni, sono in cassa inderoga, insieme alla Lares sono i lavoratori della Metalli Preziosi, due aziende storiche distrutte non tanto dalla crisi ma da una gestione sbagliata dell'imprenditore, tant'è che c'è la magistratura che si sta occupando e la rinviata a giudizio. Questi lavoratori stanno ancora cercando oggi di dare continuità di reddito attraverso il lavoro che non riescono a trovare. Quindi sono ancora in cassa integrazione, questa è la Lares, due anni fa praticamente, perché questo era il Natale del 2010, cioè il gennaio 2010, quindi era il Natale del 2009. Oggi se mai fosse possibile la situazione è peggiorata, nel senso che si allontanano le prospettive, anzi non ce ne sono né a Paderno né dintorni e quindi i lavoratori attendono il lavoro per vivere, non la cassa che è necessaria. Tra l'altro cassa che, cosa succederà a questa cassa inderoga? Perché essendo inderoga non penso che possa essere eterna. No, fino a giugno 2012, dopo di che questi lavoratori verranno licenziati. C'è a dire una cosa importante per questi lavoratori, hanno fatto un progetto sul fotovoltaico che stanno veicolando di buona imprenditoria, stanno cercando in tutti i modi di veicolare questa buona pratica, ci vogliono imprenditori seri che hanno voglia di fare industria in Italia, ma si fa fatica e è davvero un cammino difficile. Perché tra l'altro, se la Lares, almeno detta proprio fuori dai denti, gliela dico così Mansolillo, di speranze che qualcuno arrivasse e la prendesse ne abbiamo avute poche noi fin dal primo giorno in cui ce ne siamo occupati purtroppo e mi dispiace. La Metalli Preziosi invece aveva un'altra storia, perché sono i ragazzi che sono saliti sul tetto, ci sono state tante iniziative, tante battaglie, si era arrivati a un certo punto a questo fantomatico imprenditore russo, non so quanto poi fantomatico, come dirà lei, che però poi stringendo non è più arrivato. Sì, lì c'è stato oltre d'anno la beffa, nel senso che noi ci abbiamo creduto, perché sembrava credibile, anche le istituzioni ci hanno creduto, poi alla fine si è rivelata tutta una bufala. Eccoli là sul tetto all'epoca, uno dei primi tetti questo. Uno dei primi tetti, ha raggiunto il suo risultato, c'è stata una grande solidarietà intorno a questa vicenda, anche perché insisto, non sono due aziende che sono crollate sotto la crisi, ma sotto la cattiva e malaffare gestione da parte dell'imprenditore. Quindi da questo punto di vista la situazione è stata drammatica. Inoltre c'è stato il tentativo di salvarla da questa fantomatica, ha detto bene lei, e poi alla fine non è andata a finire tutto nel nulla. Con grande responsabilità dalle istituzioni e da parte di tutti. Certo, anche questi lavoratori oggi sono rimasti circa 80 ancora in cerca di occupazione e nessuno se ne occupa. La cassa in deroga finirà e quindi gli strumenti finiscono. Ci vorrebbe una politica industriale del territorio che favorisca l'insediamento e crea occupazione. Ad oggi non c'è nessuna, nessuna prospettiva. Ecco, non c'è nessuna prospettiva. All'epoca, quando venne fuori questa ipotesi di acquisto da parte di questo imprenditore straniero, io ricordo che in ballo c'era soprattutto la proprietà dell'area, mi sembra. Cos'era il problema, in cui doveva subentrare la pubblica amministrazione e invece non è riuscita a fare il passo, o non ha voluto fare il passo, perché non è che riuscire, è una volontà. Una cosa incredibile, nel senso che lì c'è un suolo dedicato all'industria, c'è la possibilità di favorire anche altri insediamenti, un'azienda di fotovoltaico ha manifestato interessamento, c'è tutta una serie di situazioni. I russi hanno sempre detto, questa società, vogliamo comprare l'impresa, non il terreno, e da qui poi c'è stata tutta una serie di tentativi di trovare, di mediare altro, e poi a oggi non è chiaro perché non è andato a buon fine. Comunque una cosa è certa, che quel suolo lì e c'è uno striscione, che i lavoratori stanno vegliando. Nessun cambio di destinazione ad uso, nessuna speculazione adilizia. Questo noi almeno ce l'aspettiamo dalle istituzioni, ad oggi non è avvenuto, ma speriamo anche che non accada. Siamo ancora speranzosi che qualche imprenditore, le istituzioni favoriscono l'insediamento. È un suolo vicino a tutti gli accessi anche da punto di vista logistico, però ad oggi è tutto, tutto fermo. I sindacati spesso suggeriscono, diciamo così, ai comuni di avere un atteggiamento di questo tipo. Fate un PGT in cui vi occupate anche del fatto che ci debbano essere delle imprese sul vostro benedetto, maledetto, chiamatelo come volete, territorio, perché non potete andare avanti a fare PGT, coi grattacieli, le case, le cose, e poi il lavoro. Nessuno ci pensa. In un periodo di crisi, se non pensi al fatto che c'è un'emergenza occupazionale, sei un imbecille. Questa è l'unica definizione che puoi dare a un politico che ha questa veduta così corta, insomma. Allora, la questione relativa al cambio di destinazione d'uso, ne abbiamo parlato, Paderno è diventato un caso forse anche per questo atteggiamento un po' predatorio di qualcuno che diceva quei terreni lì mi fanno gola. Sì, io non lo so. Perché visto che non è solo, mi diceva lei, queste due ad esempio, non hanno chiuso per responsabilità della crisi, o almeno non hanno fatto in tempo a viverla la crisi, perché è successo tutto prima, ma c'è da porsi il problema? Adesso che fare e soprattutto perché è successo? Intanto impedire la speculazione. E poi è chiaro che cosa ci aspettiamo, però è complicato, è difficile, non c'è la tensione giusta, anzi, noi sentiamo parlare molto di lavoro, ma si fa poco. Favorire l'insediamento di noi imprenditori, imprenditori seri, capaci, che hanno voglia di fare. Io non escludo anche aiuti che vanno dati, e quindi da questo punto di vista favorire, anche mettendosi in discussione e altro. Questo mi aspetta dal comune di Paderno e non solo. Però ad oggi questo non accade. Ci nascondiamo tutti che è complicato, la crisi è vera, c'è, ma non si fa neanche niente per uscirne. O meno, si fa pochissimo. E quantomeno i lavoratori non lo percepiscono come tentativi di favorire l'insediamento di imprese che possono poi dare occupazione. Sono d'accordo totalmente sul fatto che senza lavoro non c'è dignità, e poi... C'era scritto su quella bandiera. Perfetto, quella bandiera è stata un simbolo che ha fatto il giro dell'Italia. Poi, tra l'altro, bisogna dire un'altra cosa, quale futuro per i cittadini, per i giovani, senza abusare di retorica, città dormitorio, ma poi i servizi, i centri commerciali. Vediamo che anche i centri commerciali non sono così pieni, se non per andare a fare le gite. Quindi da questo punto di vista penso che sia il tema da svolgere nei prossimi mesi. Peccato che deve essere svolto già, però lo continuiamo a dire, quindi noi lo urliamo. E grazie anche a Telenova, che noi abbiamo urlato queste cose, l'esito non sono stati dei migliori, anzi, tutt'altro, siamo sconfitti, sì. Ma vinti no. No, 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 noi ci crediamo ancora. E il fatto stesso... C'è un tio con la bandiera, ce l'ho davanti al computer. Il fatto che oggi viene ancora trasmesse quelle immagini ci fa dire che non si è dimenticato nulla. Quindi la giornata della memoria, anche per quanto riguarda questi lavoratori, è bene farla. Tanto si parla di lavoro, ma non si parla di questi casi in cui invece bisognerebbe parlare, si parla di una riforma del lavoro. Io, vuole dire una parola, perché adesso la Fornero ha detto spero nell'ok del Partito Democratico, ma noi andiamo comunque avanti. Sostanzialmente oggi Bonanni ha detto non mi sembra un atteggiamento intelligente quello di dire noi andiamo avanti lo stesso. L'abbiamo sentito prima, abbiamo sentito una pillola proprio del segretario. lei cosa vuole dire di più? Io penso che intanto andare avanti da soli che significa? Da una parte si dice coesione sociale, coesione del paese, da soli non ce la possiamo fare, bisogna mettersi insieme. E poi ci sono queste minacce, andiamo avanti da soli, volete difendere i lazzaroni. Sono tutti atteggiamenti che vanno nel senso contrario di quello che si dice. Noi invece pensiamo che il mercato del lavoro va rivisto, ma a condizioni che ci sia il lavoro. Qui il problema non è il mercato del lavoro, il problema è il lavoro che non c'è. E quindi che cosa si fa per lo sviluppo? Ecco, la Fornero, l'ottoressa Fornero, deve indicare la strada per creare lavoro. Poi tutti gli strumenti li valuteremo come sempre. Io cito un esempio, a come un'azienda e i lavoratori si stanno finanziando un investimento per consentire l'impresa di rimanere in Italia. Ecco, voglio dire, i lavoratori di fronte a un progetto in che senso si stanno finanziando? Mettono dei soldi per finanziare un progetto industriale. Li mettono loro. Li mettono loro. Rinunciando dei soldi. Perfetto. Quindi vuol dire che quando il lavoratore è di fronte a un progetto non si pongono il problema quanti soldi prendiamo, ma per quanto tempo prendiamo i soldi. Ecco, se questo è l'obiettivo, quindi il governo farebbe bene a smetterla di dare giudizi sui giovani, sul posto fisso, andiamo avanti da soli. Suonano come minacce. Per noi inaccettabili, ma di sicuro c'è che per la mia organizzazione è importante rimanere attaccati al tavolo, non a tutti i costi, ma costruire soluzioni condivise. C'è bisogno di condivisione. La Fornero, anche a me queste battute qui ogni tanto, la Fornero è un po' confusa a mio parere, nel senso che a volte dice che non c'è la cassa, poi l'articolo 18 è importante, poi non lo è. Ecco, ci vorrebbe più equilibrio, più serietà. Io ricordo quando l'abbiamo vista piangere parlando delle pensioni, io non so, io avevo un'idea, penso che in parte sia confermata da quello che adesso sta facendo, perché non mi pare che stia piangendo più di tanto per fare questo. Secondo me si va a teatro per vedere gli spettacoli, stiamo parlando di cose serie che toccano le sfere delle persone, noi non dimentichiamo mai che poi ci sono di mezzo alle persone, che sono da vivere con sudore, quindi persone che dicono fateci sudare, vogliamo lavorare, e noi cosa rispondiamo? Riformiamo il mercato del lavoro? Non è una soluzione, è uno strumento il mercato del lavoro, ma se c'è il lavoro, e in questo posto... Quindi prima bisogna creare lavoro, poi possiamo gestirlo come vogliamo, certo. Dopodiché all'interno non si sottrae nessuno, mi sembra che CGL e CSA non si sono sottrati, in quanto a coraggio, poi vediamo come va a finire. Tornando a Paderno, anche metalli preziosi, i lavoratori, gli 80 di cui parlavamo, giugno 2012 finisce la cassa in deroga, è legata giusto la cassa? Sì, anche lì c'è la cassa in deroga fino a giugno, con una prospettiva diversa, nel senso che essendo in fallimento aperto, fino a non si sa quando si chiuderà, se si riesce a collocare 15%, come dice la legge, è possibile traghettarle fino a 1 gennaio 2013, con la cassa in deroga. Però una cosa va detta, che questi lavoratori che noi conosciamo bene, e anche lei conosce bene, vogliono il lavoro, non gli strumenti difensivi, che sono necessari per sopravvivere. Su quello sono sempre stati parecchio coriacei, nel senso che li vedevi e ti dicevano, ma io sì, la cassa integrazione va bene, però poi quando pensavano al fatto che non avevano il lavoro, e non avevano la dignità che ti dà il fatto di avere un'attività lavorativa, sostanzialmente, li vedevi, li vedevi negli occhi qualcosa di molto particolare, è quello che poi ci ha portati noi giornalisti ad essere spesso lì, perché effettivamente... Oltr'altro va anche ricordato una cosa, che questi lavoratori vogliono lavorare e non facevano un lavoro semplice, facevano un lavoro faticoso, a turni, quindi voglio dire, quando parliamo dei lavoratori italiani, sappiamo di chi stiamo parlando, vogliono lavorare per fare quel lavoro, che era faticoso, ma li rendeva libere e democratici. Oggi purtroppo tutto questo non si può dire, perché con 700 euro al mese, è complicatissimo. L'altra cosa che va detta di questi lavoratori è che hanno sempre affrontato tutto questo con una grandissima dignità. Sì, su questo assolutamente. Esattamente come la bandiera. Esattamente. Non sono gli unici casi, perché poi è arrivata la crisi, e lì probabilmente c'entra molto di più che in questi due casi la crisi stessa, ci sono delle situazioni aperte che fanno un po' tremare le vene ai polsi, perché onestamente sono numeri che fanno spavento. Ce ne racconti una, Manzolillo, quella della forma. Sì, una è emblematica. È un gruppo che di 750 persone è presente a Villa Santa a Cormano, per esempio, è in difficoltà economica, quindi fa fatica perché è piena di debiti. Da punto di vista istituzionale, è un'azienda sana, però rischia moltissimo, perché ha proposto il concorato preventivo e non è andato a buon fine. Oggi ha aperto una casa di creazione per 90 persone su 300 a Cormano, e se non risolve il problema dei debiti, il rischio concreto è che questa azienda rischiamo di perderla, con 750 famiglie annesse. Tutto questo crea pressione, perché in un territorio già farcidiato, come diceva lei, della cassa, piuttosto che dei licenziamenti, crea molta pressione. Poi c'è la Bitlum, anche lei in cassa integrazione, ma potremmo citarne altre tante. Ecco, anche qui, che cosa si fa? Le istituzioni che cosa fanno? E' che qui c'è un'assenza totale. E anche qui questi 300 lavoratori di Cormano, ma il gruppo nel complesso, sono veramente preoccupati. E questi sono lavoratori che lavoravano a ciclo continuo, perché lavorano in pressofusione. E anche qui si crea un problema. Inoltre, le imprese, quando vanno in panico, perdono, come dire, tra finito, la lucidità di gestione. Certo. E quindi c'è un grande scollamento tra l'impresa e i lavoratori. l'auspicio è che qualcosa intervenga e che il governo faccia la sua parte, ma per lo sviluppo, cioè favorendo, aiutando le imprese. Per esempio, l'accesso a credito è davvero un problema da risolvere. E quando si parla di liberalizzazione, bene i tassisti, bene, però bisogna toccare i poteri forti. Cioè, per esempio, le banche che prendono, comprono i soldi e poi le rivendono, dovrebbero favorire di più non tutte le imprese, perché sono alcune imprese che effettivamente non possono stare nel mercato. Però quelle sane, che fanno, come dire, produzione vera, che sono un orgoglio, bisognerebbe, in qualche maniera, favorirle. Questo non accade. Questo gruppo, per esempio, è in difficoltà. Un esempio eclatante, per esempio, a Cinisello c'è la trezzeria Paganelli, un'azienda storica, 70 anni, un nuovo incredibile, invidiato in tutta Europa, schiacciato dai debiti, è fallita. Nel silenzio più assoluto. Questo è grave. Cioè c'è una forma di, come dire, di rassegnazione e di normalità, che normalità non è. Ecco, allora, grazie di questo invito, per dire non è normale che un gruppo form rimanga solo e che non venga in qualche maniera favorito sul rilancio. Non è normale che una trezzeria Paganelli si spenga così nel silenzio più assoluto. Abbiamo già pagato per l'Ars, Metalli, altre tante, la Bomet stesso. Ecco, concreto, vicino alle persone. Ma io ringrazio, devo dire la verità, ringrazio lei perché noi l'abbiamo fatto, lo continuiamo a fare, però è sempre giusto ed è, secondo me, è corretto anche da parte vostra dare degli stimoli a noi perché onestamente bisogna fare questo tipo di informazione. In un periodo come questo la crisi è la cosa che più spaventa, il lavoro è la cosa che più preoccupa e quindi è quello di cui si deve occupare anche tutto il sistema dei media cercando magari anche di mettere pressione a chi dovrebbe fare e non fa sostanzialmente. Assolutamente. Metal meccanico è il settore più pesante relativamente alla crisi. Siamo in difficoltà, molto in difficoltà, la cassa di azione è in aumento, la cassa in deroga quando finirà sarà un dramma e non si investe, non ci sono soldi, non girano. Poi c'è questo clima di incertezza, uccide più l'incertezza che tra virgolette poi anche come dire la burocrazia. Per esempio in questo paese si parla tanto di costo del lavoro ma nessuno dice che o meglio lo si dice ma poi passa in sottotraccia che si spostano le merci tutto su ruota quindi abbiamo visto un po' di neve che cosa succede, il costo dell'energia è un problema, l'accesso a credito dicevamo prima, la rigidità anche della burocrazia. Per esempio si parla di articolo 18 però non si parla dei contenziosi che durano anni. per esempio sul fallimento in Italia è una tragedia un'impresa che cade nel fallimento se ne trascina altre perché non c'è la certezza del recupero del credito. Quindi da questo punto di vista ci sono molte cose da fare ecco perché io ritengo sia sbagliato concentrarsi su e parlare di articolo 18. Qualcuno l'ha definito io sono d'accordo l'articolo 18 è una distrazione di massa cioè distrae dai problemi veri. Ecco noi non dobbiamo farci distrarre e oggi abbiamo parlato di problemi veri che toccano le persone di Cormano Paderno Cinisello. Ecco io credo che questo sia un metodo giusto anche il sindacato si deve concentrare sui problemi veri dei lavoratori si fa accademia delle volte io ho l'impressione che anche il ministro Fornero parla di cose ma per distrarle non per affrontarle perché sull'articolo 18 francamente non se ne sente bisogno di metterle in mano perché il lavoro non c'è poi dopo di che se ci sono casi si può discuterne però non è che quello l'altra questione invece vera è quella la certezza delle cause del lavoro bene Monti ha accennato il tribunale del lavoro perché oggi le cause del lavoro diventano un dramma ma questo vale anche per i lavoratori però se li scienziati c'è tutta una serie di queste cose ci sono tante cose da fare tutto abbiamo bisogno però tranne che di minacce o di insulti come ha fatto la macchia gara io credo che la riforma del mercato del lavoro sia io parere mio comunque indispensabile cioè io vedere 46 contratti sul tavolo mi fa venire i brividi e mi fa venire lo schifo onestamente perché sono 41 modi di prendere in giro dei giovani e non solo dei giovani delle persone e quindi questa è una cosa che onestamente va affrontata e deve essere affrontata è chiaro che Manzorillo provando a definire in una parola forse quello che stava dicendo lei la riforma sul lavoro deve essere forse strutturale e infrastrutturale perché quello del trasporto merci su rotaia su ferro potrebbe essere una scelta di un certo tipo questo voi lo segnalate lo appoggiate insomma da tempo sindacato noi siamo siamo d'accordo semplificare accorpare ma non siamo contrari anzi siamo noi che l'abbiamo detto tra l'altro c'era anche in un documento di CGL e che questo paese parla di tante cose ma non non ne fa molte allora per quanto riguarda invece io volevo volevo che affrontaste un argomento voi ed è questo che mi insomma mi fa pensare e mi fa porre una questione il 9 di marzo mi sembra la FIOM si ferma sì la FIM che fa? la FIM non ha firmato l'accordo FIAT e dunque la FIM sta nella CISL e sta discutendo di quello che sta succedendo anche qui quella della FIOM del 9 diventa qualcosa che parte da un punto ma poi coinvolge tutto quello che sta succedendo e sta succedendo insieme mi par di capire perché a parte FIAT in molte cose vi state ritrovando come sindacati anzi vi siete ormai ritrovati penso perché Monti ha fatto un miracolo da quel punto di vista la Fornero più che Monti intanto CGL e CISL stanno discutendo stanno a tavolo insieme nelle differenze ma la cosa che va assolutamente valorizzato è che CGL e CISL discutono ma sono capaci di fare sintesi perché io diffido di un sindacato che non discute uniformare il sindacato sarebbe un errore gravissimo deve discutere ma deve essere capace di fare sintesi diversa la questione dei metameccanici la FIAT ha fatto una scelta di fare lo sciopero generale io francamente faccio fatica a capire come si fa a stare in CGL che discute e poi fare lo sciopero generale cioè sono due aspetti ora o si arriva alla conclusione della trattativa e non c'è un accordo e allora si può ragionevolmente pensare però noi dobbiamo rispettare sempre quando una categoria come la FIAT decidi di farla conoscente ovviamente noi non condividiamo per le ragioni che sappiamo nel senso che anche nel mondo FIAT ne abbiamo fatto un'altra scelta col consenso dei lavoratori perché c'è stato il referendum vale la pena ricordarlo nel merito quell'accordo mi sembra che stia partendo con la grande difficoltà quindi noi rispettiamo lo sciopero della FIOM ma ovviamente non condividiamo è tutto un problema interno alla CGL però perché ripeto e insisto non si comprende come una categoria sciopero all'interno della Confederazione io non so come la Camusso possa dire da una parte si tratta dall'altra si sciopera sono quei misteri che ci spiegheremo solo vedendo diceva assolutamente allora io volevo chiedere a Mauro in regia di farmi rivedere quella ferma immagine se lo ritrovi della bandiera gialla e bianca che io ho qui al lavoro che Mansolillo conosce bene che è stata su tantissimi eccola qui che è stata su tantissimi balconi a Paderno che si affacciavano non solo a Paderno ma io mi ricordo lì erano tutti fuori avevano fuori sta bandiera tutti e si affacciavano su queste due imprese su queste imprese su tutte le metà di preziosi che intanto era in quel tipo di difficoltà per chiudere io vorrei chiederle una cosa proprio perché ci dobbiamo occupare di persone come stanno? ma combattive come sempre e quindi queste persone stanno bene nel senso manca il lavoro il resto sono combattive appunto accennavo al progetto che hanno per rilanciare come dire un progetto industriale che abbiamo presentato hanno presentato in regione dappertutto stanno bene sono sempre non hanno perso la speranza mettiamola così anche se un po' di stanchezza c'è perché non si vede non si vede nessun risultato dopo tanti sforzi tenga conto che il presidio è durato è stato un presidio vero la gente ci ha creduto perché non si resta su una torre per tutto quel tempo senza in quel periodo lì però abbiamo potuto apprezzare una cosa la solidarietà praticata e quindi da questo punto di vista noi possiamo ancora dire grazie a tutti quelli che hanno contribuito compreso quella magnifica serata di tutti quei comici che voi ogni tanto ne ospitate qualcuno c'ero anch'io quella sera lì c'ero anch'io praticamente 1200 persone con questi attori che vale la pena con in testa Stefano Chiudaroli non hanno voluto neanche neanche un centesimo e neanche una pizza quindi per farla contraltare a Adriano Celentano che ha dato in beneficenza i soldi che non ha preso ecco perfetto allora grazie davvero a Mansolillo per essere stato con noi un saluto ai lavoratori di Paderno della Metalli Preziosi della Lares a tutti i lavoratori di cui abbiamo parlato oggi un abbraccio davvero sincero e magari io spero ci vediamo presto anche lì alla Metalli per un altro appello e per cercare di svoltare diciamo così in questa situazione che resta difficile e drammatica grazie Mansolillo fin CISL Milano e adesso la linea a Luciano Rindone per lo sport prima del TG Oggi grazie a tutti